L'On. Iole Santelli ha presentato un'interrogazione parlamentare indirizzata al Ministro dell'Interno con la quale segnala la presunta illegittimità del decreto con il quale è stato prolungato il commissariamento del Comune di Marina di Gioiosa per ulteriori sei mesi. Un provvedimento sostiene che sarebbe stato adottato oltre i termini stabiliti dalla legge. Secondo Santelli, l'articolo 143,10, ultimo periodo del 2L, stabilisce che l'eventuale provvedimento di proroga della durata dello scioglimento è adottato non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data di scadenza della durata dello scioglimento stesso. Il precedente,4 continua, chiarisce che lo scioglimento è disposto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno previa deliberazione del Consiglio dei Ministri entro tre mesi dalla trasmissione della relazione di accesso ed è immediatamente trasmesso alle Camere. Emerge con evidenza che la procedura si deve perfezionare entro e non oltre il cinquantesimo giorno antecedente la data di scadenza dello scioglimento stesso. Ebbene, afferma, nel caso di Marina di Gioiosa Ionica, pare che tale atto sia stato compiuto fuori termine. Il commissariamento si sarebbe dovuto concludere il 24 maggio, spiega Iole Santelli, sei mesi dalla data dello scioglimento, arrivato il 24 novembre. Quindi, quest'ultimo decreto di proroga avrebbe dovuto essere adottato il 4 aprile 2019, non come avvenuto un giorno dopo. Gli ECS amministratori, guidati dall'ECS sindaco Domenico Vestito, ringraziano l'onorevole Iole Santelli per l'interesse dimostrato e commentano così. È evidente che ciò costituisce un fatto grave perché in gioco c'è un diritto costituzionale fondamentale, qual è quello all'esercizio libero e democratico del voto per la scelta degli amministratori pubblici.